Tornata elettorale anche per il rinnovo del Parlamento europeo. Allora parliamo del ruolo delle regioni nei confronti dell'Europa. Molti lo vedono come le regioni che devono difendere l'identità dei territori nel contesto europeo. Sì, dunque qui il discorso è ovviamente più articolato ma tutto sommato neanche tanto rispetto al ruolo delle regioni nel sistema nazionale. Io partirei con un'affermazione o meglio con lo sciogliere un nodo. Il nodo è ma non solo l'Italia ma l'Europa ha bisogno di regioni. Questa è la domanda fondamentale. E di che tipo di regioni ha bisogno l'Italia e ha bisogno l'Europa? Ha bisogno delle regioni dei territori? Ma cosa vuol dire la regione del territorio? Vuol dire identità territoriale? Ovvero, cosa molto più interessante, vuol dire identità socio-economica, geografica, culturale. Questo è tutto un altro livello. Allora se io dovessi dire l'Italia e l'Europa non hanno bisogno delle regioni dei territori. L'Italia e l'Europa hanno un enorme bisogno delle regioni da quell'altro punto di vista, cioè di agglomerato urbano, economico, geografico, con una sua identità culturale. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di questo tipo di regione ed è in questa direzione che noi dovremmo procedere. Per cui l'Europa sarà sempre di più l'Europa delle regioni, ma di questo tipo di regione. E qui di questo cosa vuol dire? In termini molto semplificati. Vorrebbe poter dire che regione non è solo il Piemonte, ma regione è quell'agglomerato che oltre al Piemonte, Liguria, magari un pezzo di Lombardia, un pezzo di Valle d'Aosta, cioè l'Europa ha bisogno di queste regioni. Quindi se noi dovessimo oggi riprovare a ragionare in Italia sulla definizione del ruolo delle regioni, lo dovremmo fare non solo a livello, diciamo così, istituzionale, la Camera delle Regioni, ma dovremmo cominciare a farlo anche dal punto di vista geografico. Dovremmo chiedere ai geografi, agli urbanisti, agli economisti di aiutarci a capire di che tipo di regione ci dobbiamo dotare per essere forti in Europa.